per il prossimo incontro visto il successo riscosso da Joker chiamo l'arbitro Steve passerei a presentare il prossimo incontro è una sfida che è stata lanciata questa sera per un titolo di campione europeo allora chiamiamo da Dubai con il suo manager Joker chiamiamo Youssef Mimì a te poter dire paghi a killa, panni ritmo gira, lukaki a killa Mimì a te poter dire paghi a killa, panni ritmo gira, lukaki a killa Mimì a te poter dire paghi a killa, panni ritmo gira, 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 panni ritmo gira del mondo, Giuseppe! Vi accennavo, titolo di campione europeo in patio, quindi Giuseppe sfiderà il campione in carica, voi tutti sapete che corrisponde al nome di Caronte! Grazie per la visione! 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 Vai, vai! Vai, vai!